Bella a tutti ragazzi e bentrovati in questo nuovo video. Oggi un video speciale perché raga fra 6 giorni uscirà un nuovo brawler Iris. 6 giorni e 22 ore la data in cui sto registrando. Iris è combattente ed è un brawler epico. Andremo a provarlo? Non l'ho mai provato perciò lo proveremo insieme. Andiamo a provare Iris. Vi giuro non l'ho mai provato. Ok, è una sorta di robot. Ok, sì, un robottino. Sembra anche molto carino. Andiamo a vedere il suo raggio di azione. No, vabbè, ma cos'è sta roba? No. No, vabbè. Ma il suo raggio è molto lungo. Poi non capisco. Cioè, ma lo posso colpire anche da questa angolazione? No, vabbè, è illegale. Però giustamente non fa danni come è così. Ok. La sua super non ho visto cosa fa. Nello scoprirlo insieme, lo buttiamo qui. No, vabbè, non ho capito. È una sorta che il suo robottino gli va addosso. Ma se io, tipo, lo piazzo qui, che succede? Ma, raga, ma non ci possiamo muovere. No, è bruttissima la sua ulti. Cioè, quando la usiamo... Adesso vi faccio vedere che carico la ulti. Noi non possiamo muoverci. Perciò è adatto se qualcuno ti sta pushando. Per esempio qua, aspettate un attimo, adesso mi carico la ulti. Per esempio qua è utile... No, fa pure il doppio danno. È utile la ulti da vicino se uno ti sta pushando, vedete? Perché siamo fermi. Dai, ci sta come brawler, ci sta di brutto. E uscirà tra sei giorni. Niente, raga, io intanto vi ricordo, se ancora non l'avete visto, la live di ieri dove abbiamo aperto tutte le nostre casse che avevamo. Abbiamo trovato Spike, Sandy e Gelindo. E non vi perdete la live che farò oggi pomeriggio dove andremo a portare 500 coppe uno dei tre brawler nuovi che abbiamo trovato. Niente, adesso ci facciamo una missione ricercate con Pamba. E poi ci salutiamo. Ah, prima lasciate like, mi raccomando, e iscrivetevi se ancora non siete iscritti. Bene, iniziamo. Siamo con Rosa. Due tank, ci lag, ovviamente. No, raga, così non si può giocare. No, no, troppo lag, madre. Ehi. Non lo so, raga, adesso controllo la connessione. Fermo il video. Controllo la connessione che vi sto andando uguale. Ok, raga, spero di aver risolto i problemi con il lag che non si poteva giocare. Cioè, almeno non si può giocare, però io odio il lag. Speriamo che adesso non ci lagga, per favore. Ok, adesso... No, ci lagga, non lo so. Sarà un problema di Brawl Stars, non lo so. Perché a me il lag non mi è mai successo. Niente, raga. Spero di risolvere. Adesso Proviamo a gestircelo anche con il lag, che non lo sopporto. Ok, siamo 3-3. Dio, no, raga, non si può giocare così. Dio, ho fatto una kill e non so come. Va bene, comunque... Cioè, ma... Fatemi sapere se anche a voi sta laggando come della bestia. Non lo so se è un problema di server. Non lo so. Sinceramente non ne ho la più palida idea. Cioè, così proprio si riesce a giocare. A me la connessione mi è sempre andata bene. Non lo so. Ok, ho fatto un'altra kill a caso. No, vabbè. È impossibile. È impossibile. Eh, per questa partita è così, mi scuso, però. Ok, riusciamo a killare anche questa. Non so quanti kill ho a caso. Stiamo pure vincendo. No. Ok, siamo morti. Dai, raga. 39 secondi. Cioè, possiamo fare... Vai, GX. Qualcosa. No. Ok. Sto facendo tutto io pure. Mi lagga. Cosa fai? Cosa fai? Provo a fare qualcosa. Ok. 21 a 22. Ok. Provo a recuperare vite. Ok. No, non possiamo parlare di un punto. Non ci credo! Era rimasto one shot. A me lagga, purtroppo. Vabbè, raga. Abbiamo perso 21 a 28. Mi scuso per il lagga, ma non so che cosa sta succedendo. Non è sempre andato bene. Abbiamo finito la missione. Bene. Niente, raga. Non ci vediamo. A un prossimo video. Bella! Ciao!